Sveglia, 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 la festa, dove la vittoria Sveglia, 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 la festa, dove la vittoria Sveglia, sveglia, la festa, dove la vittoria Sveglia, 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 la festa, dove la vittoria Sveglia, sveglia, la festa, dove la vittoria Sveglia, 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 la festa, dove la vittoria Filippelli Nicola, Granitto Antonio, Isacco Pietro, Zappolo Salvatore, Carrizzo Giovan Giuseppe. Presente, 1945, Nutile Elia, Pastore Pietro, Carrizzo Michele, Rinaldi Marcellino, Tino Gaidano, Zappolo Salvatore, Vittima Civile, Caruso Zappolo Filomena. Grazie a tutti. 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 È finita, è finita, è finita. È finita, non ti preoccupare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i bambini che come sempre partecipano in modo assiduo a questa manifestazione. La devono trasmettere anche agli altri quando cresceranno. Loro sono testimoni di quello che succederà ogni anno a Castello, in Italia e ovunque. il pensiero va anche in questo giorno che la festa delle forze armate è stata, il 4 l'abbiamo posticipata, a tutti coloro che ancora stanno combattendo delle guerre con la speranza che per tutti arrivi presso la pace e anche chi è impegnato, i nostri concittadini, in missioni di guerra di pace all'estero. È un pensiero che in questo giorno deve scorrere nella mente di tutti noi. Vi ringrazio ancora. Buon pranzo, buona domenica a tutti. Arrivederci all'anno prossimo. Buon pranzo, buona domenica a tutti.